Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video Oggi vorrei parlarvi con un bellissimo, ragazzi, una meravigliosa applicazione che si chiama MyPermit Ragazzi, con MyPermit avete la questura, tutti gli avvocati nella vostra tasca Allora, MyPermit si può scaricare tranquillamente sul Google Play o App Store E' molto facile per fare la registrazione Ragazzi, MyPermit è un'applicazione che ha creato un avvocato per risolvere tutti i problemi di immigrati Soprattutto quando andiamo in questura per chiedere informazioni, loro ti dicono vai a trovare un avvocato Ragazzi, con MyPermit puoi comunicare con la questura senza andare in questura E vi dico, MyPermit non è un'applicazione o non è un servizio gratuito Come sappiamo tutti, ci sono alcuni avvocati Anche parlare con loro per la prima volta Dovete versare un po' di soldi per avere la possibilità per parlare con loro Con MyPermit fai la registrazione Scegli il servizio che vuoi Al momento abbiamo 10 servizi disponibili sul MyPermit Però per oggi scegliamo uno molto molto importante Per esempio, hai richiesto rinnovo o conversione del tuo permesso di soggiorno È passato quasi un anno senza alcune notifiche della questura Quando vai a controllare, a volte giallo, a volte rosso A volte non ti dà neanche niente Tu sei andato alla questura un sacco di volte però non ti dicono niente Sulla applicazione c'è scritto Solicito di rilascio del tuo permesso di soggiorno Per esempio, se tu compri questo servizio E come vi ho già detto, non è gratuito Puoi comprare questo servizio Così l'avvocato ti aiuterà a scrivere la questura Per sentire perché il tuo permesso di soggiorno non è ancora pronto Ragazzi, una volta che avete comprato un servizio che vi piace Comunicate con l'avvocato che state usando codice MOMO1 Così avrete un sconto Anche in futuro, se non riuscite a contattare l'avvocato Mandatemi un messaggio Dato che avete usato il mio codice Io vi aiuterò a contattare l'avvocato E questa applicazione ha aiutato moltissimi ragazzi Come vi ho già detto, l'applicazione si può scaricare sul Google Play o App Store Pochi passi per fare registrazioni Il servizio puoi comprare con un conto PayPal o un conto bancario Metti tutti e compri il tuo servizio E comincia a sentire qual è il punto del tuo permesso di soggiorno Come sappiamo, qui in Italia, noi immigrati Le nostre forze sono nostri documenti Sono molto molto importanti Qualunque cosa che facciamo qui, serviamo il permesso di soggiorno Quindi se la questura sta tenendo i nostri permessi per un lungo periodo Possiamo tramite la app MyPermit Chiedere perché stanno mettendo tempo per fare rinnovo o conversione Ricordatevi di comunicare con l'avvocato Una volta comprato il servizio, il codice MOMO1 Grazie a tutti Se avete dei dubbi, se non capite qualcosa Potete seguirmi sul Facebook Official Cracka TV Nel profilo troverete il mio numero Whatsapp Mandatemi un messaggio sul Whatsapp Ci vediamo nel prossimo video Grazie a tutti, ciao